Che il parto fosse difficile, travagliato, il rischio era sotto gli occhi di tutti, ma che a dare il colpo di grazia alle SRR, le future creature in tema di gestione dei rifiuti in Sicilia, potesse essere un taglio cesario, pardon, un taglio alla finanziaria della regione, questo francamente nessuno se lo aspettava. Ma è proprio così, nel testo in corso di esame e discussione è stata inserita una norma che farà discutere, prevede la Costituzione nuovamente degli Ato, facendo così andare in soffitta la riforma, tanto decantata, approvata due anni fa, che aboliva gli ambiti. Insomma, un ritorno al passato in riferimento al quadro normativo, ma di consolidamento del presente di fatto. E il presente sono liato da tutti i bollati come carrozzoni mangiasoldi, contenitori clientelari e che più ne ha più ne metta, per non parlare poi dei disagi quasi costanti che le popolazioni sono costrette a subire da una macchina periodicamente in sofferenza dal punto di vista della disponibilità finanziaria. E proprio per restare in tema, gli operatori ecologici del lato GESA e G2 sono nuovamente sulle piede di guerra. Alla vigilia di Pasqua avevano sospeso la protesta che andava avanti da 11 giorni per l'impegno assunto dai vertici del lato, dai sindaci nei confronti delle imprese, di pagare loro e entro la giornata di ieri altre fatture pendenti. E così per gli operai niente stipendio di febbraio. L'impegno non è stato mantenuto, sottolineano con amarezza anche le organizzazioni sindacali di categoria. Noi siamo molto preoccupati perché questi erano gli accordi sottoscritti e la fiducia era su un impegno preciso di questo pagamento. C'è ancora una ditta che non ha pagato addirittura neanche il saldo del mese di gennaio, che avrebbe dovuto già liquidarlo da qualche giorno, tutte le ditte non hanno pagato lo stipendio, la CGL lunedì mattina convocherà un'assemblea assieme agli altri sindacati naturalmente per stabilire come procedere. C'è il rischio di una nuova protesta? C'è il rischio che la gente non ha i soldi per fare la benzina e la macchina non andrà a lavorare. Quindi poi tutti i problemi di ogni singolo lavoratore all'interno della propria famiglia li teniamo dentro le proprie famiglie. Ma c'è il rischio di non potersi recare al lavoro. E quindi poi quei sindaci che gridano al lupo al lupo, che chiedono la protezione civile, che chiedono... si diano da fare e trovano i soldi.